Disintegration con questa sua andatura veramente micidiale, veramente forte, questo rumore di rottura di vetri, insomma è grandioso questo brano, grandioso come tutto l'intero LP e noi sempre da Disintegration traiamo un altro brano fondamentale per la carriera della band e playa Sephora in Grazie 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 Raios for Rain, un brano intensissimo di Robert Smith in questo album Disintegration per Smush e per la musica dark, per la formazione dei Cure e per tutto il movimento musicale senza ombra di dubbio. E ora ci ascoltiamo The Holy Hour, facciamo un salto indietro di qualche anno ovviamente da Disintegration e passiamo a The Holy Hour, qui al Vittorio 34, qui in diretta e Night Live Dance qui con la Chess DJ. Grazie a tutti. 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 Eccoci con i Cure più Darkoidi che mai, The Holy Hour 2137 e dopo The Holy Hour mi sembra del tutto naturale andare ad ascoltarci The Drowning Man, addirittura veramente bello questa serata, una bellissima selezione mi sembra di capire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.